Buonasera a tutti! Ah, ok, perfetto. Perfetto. Come va? Allora... Questa sera volevo andare a fare un po' di missioni principali. Più che altro perché oggi ho giocato un pochino, negli ultimi giorni ho giocato un pochino e mi sono fatto un bel po' di missioni secondarie, abbastanza che ne ho solo più queste qua e poi a quanto pare ce ne sono un po' da prendere in giro ancora.